Salve a tutti e benvenuti a Watch & Work. I tutorial video con T-Tec per meccanici d'auto. Qui scoprirete come sostituire la cinghia dentata di svariati veicoli in modo facile, sicuro e rapido. I video illustrano le principali fasi di lavoro e si rivolgono ai professionisti. Durano qualche minuto, ma è tutto tempo bespeso che riguadagnerete durante il montaggio. Sono Stefan Mayer e in ogni puntata vi mostrerò il motore di un veicolo diverso, di quale vi parlerò oggi. Seguitemi! Oggi ho qui il motore di 2.0 litri da 114 kilowatt di un Alfa Romeo 156 del 2000, identificato dalla sigla AR32301. Per questo motore ci serve il kit con pompa dell'acqua CT877WP1 e un kit cinghia sincrona per il contralbero di bilanciamento CT970K1. Per il montaggio disponete dei seguenti utensili del costruttore. Per regolare la fasatura occorre effettuare alcuni preparativi. Per prima cosa bisogna smontare la puleggia dell'albero motore, la carenatura della cinghia dentata e successivamente i cavi di accensione e il coperchio delle valvole. Per la regolazione del punto morto superiore del primo cilindro utilizziamo un comparatore. Svitate la candela del primo cilindro per avvitare l'adattatore con comparatore e determinate il punto morto superiore del primo cilindro. Dopo l'impostazione della fasatura punto morto superiore primo cilindro, estraete la cinghia per i contralberi di bilanciamento. Allentate il dado sul retro del rullo tendicinbia con una chiave da 10. Fissate quindi l'albero a camma. Qui abbiamo due utensili di arresto, uno per l'albero a camma di aspirazione e uno per quello di scarico. Sul lato di aspirazione rimuovete il supporto di cuscinetto dal cilindro 2, su quello di scarico sul cilindro 3 e sostituiteli con questi due utensili di arresto. Prima di smontare la cinghia dentata, rimuovete in basso la ruota dentata dell'albero motore, poi allentate il rullo tendicinbia e rimuovete la cinghia. Allentate quindi i due alberi a camma. Per farlo utilizzate il controsupporto, poi prendete i componenti dei nostri due kit e montateli. Fate attenzione durante il montaggio del rullo tendicinbia. Affinché non ruoti è previsto un incavo e sul motore un perno guida. Questi due elementi devono essere accoppiati affinché il rullo mantenga la posizione corretta. Lo stesso principio vale per il rullo tendicinbia della cinghia dentata per il contralbero di bilanciamento. Anche qui troviamo un foro e un perno guida che devono essere accoppiati. Perché non applicare sulla pompa dell'acqua pasta sigillante aggiuntiva o una sostanza adesiva? Quando c'è una guarnizione in sughero, metallo o gomma, non bisogna applicare anche della pasta sigillante. Quest'ultima si disperde nel circuito di raffreddamento e può ad esempio intasare il radiatore, pompa dell'acqua o altri componenti oppure causare perdite. Abbiamo sostituito tutti i componenti. Ora è il momento di calzare la cinghia. Fare attenzione alle frecce della direzione di rotazione e ai segni di riferimento per l'albero a cam e l'albero motore. Cominciate dalla puleggia dell'albero motore e passate poi alla ruota dentata dell'albero a cam. Assicuratevi che alla fine i segni di riferimento nei due punti siano allineati. Per tendere la cinghia utilizzate l'utensile speciale. Inserite quest'ultimo con il perno nel foro vicino al rullo tendicinia. Sovraccaricate ora il rullo in modo che l'indicatore raggiunga la battuta massima. Perché è importante sovraccaricare inizialmente la cinghia? Abbiamo a che fare con gomma nuova. I denti in gomma sono grandi e devono prima adattarsi alla puleggia. Applicando una tensione superiore a quella di esercizio, facciamo aderire i denti in gomma alle pulegge. In questo modo, la gomma si adatta alle pulegge e si prevengono successivi assestamenti. Fate compiere ora due giri completi in avanti al motore e regolate poi correttamente la fasatura e la tensione. Dopo aver impostato correttamente la fasatura, correggete la tensione della cinghia dentata. Allentate il dado del rullo tendicinia e ruotate quest'ultimo finché indicatore e foro non coincidono. La cinghia dentata principale è montata. Fissate quindi le pulegge dell'albero a cam utilizzando il controsupporto. Poi rimuovete gli utensili di bloccaggio e il comparatore. Montate la cinghia dentata per i contralberi di bilanciamento. Per prima cosa, rimontate la cinghia dentata sulla puleggia dell'albero motore, tenendo presente che qui abbiamo di nuovo una direzione vincolata, indicata da frecce e segni di riferimento. In questo caso, le tacche di riferimento sono qui, sulla ruota dentata. Qui c'è una tacca che deve essere allineata a quella sulla copertura posteriore. Una tacca si trova sulla puleggia dell'albero motore e l'altra sul contralbero di bilanciamento. Cominciate l'applicazione con questo segno dietro alle frecce su questo albero a cam di bilanciamento e procedete poi in senso orario verso gli altri segni di riferimento. Per tendere la cinghia, utilizzate l'utensile speciale con il foro. Quest'ultimo va accoppiato su questo perno guida sul rullo tendi cinghia. Ruotando l'utensile, la cinghia si tende. Ruotate l'utensile speciale in senso orario fino a quando questo punto del rullo non sia allineato alla punta. Ora entrambe le cinghie sono montate. Prima di passare al riassemblaggio in sequenza inversa, ricordatevi di serrare alla giusta coppia i due supporti di cuscinetto degli alberi a cam in alto. Ecco, è quasi fatta. Ora dovete solo terminare di montare il motore. Prestate attenzione alle indicazioni del costruttore, in particolare per quanto riguarda le coppie. Ricordate, non stringete troppo. E non dimenticate il nostro sigillo di qualità. Applicate l'adesivo in posizione ben visibile nel vano motore perché il cliente veda che avete montato ricambi di qualità. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS